MF Ecology, una vasta gamma di servizi offerti all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Clemente Tafuri, numero 4. Nuova seduta di Consiglio Comunale ieri a Cava dei Tirreni. Una riunione del parlamentino cittadino prettamente di natura tecnico-contabile. Tra i punti all'ordine del giorno, infatti, alcune variazioni al bilancio di previsione. La prima ha riguardato due richieste di anticipazioni presso la Cassa Depositi e Prestiti, rispettivamente di 289.122.000 euro, per dare esecuzione alle ordinanze di demolizione non ottemperate e che dovranno essere restituite dall'ente con un tasso di interesse pari allo 0,1% entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi. Le altre variazioni, invece, hanno riguardato l'accertamento in entrata di un finanziamento di 154.000 euro per l'assunzione di quattro nuove unità per rafforzare il settore per la realizzazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di 12.000 euro finanziati dalla Regione Campania per il progetto Bike to Work. Entro il 30 novembre devono essere fatte tutte le variazioni di bilancio ultime per l'anno in corso, quindi per il 2021. Vero che noi ci troviamo in un anno atipico, come abbiamo detto più volte, perché sostanzialmente abbiamo approvato il bilancio di previsione e rendiconto di gestione al 30 settembre. Qui erano soltanto quelle variazioni che noi abbiamo definito cosiddette variazioni neutre, ossia variazioni che non incidono sugli equilibri di bilancio perché abbiamo un'uscita corrispondente ad un'entrata. Prevalentemente, quindi, erano tutte variazioni di assestamento attinenti a dei capitoli di bilancio di cui necessitavamo una capienza completa oppure erano il recepimento di finanziamenti, finanziamenti regionali o di altra fonte, che devono essere riconosciuti all'interno del bilancio per essere spesi. Quindi erano, nella estrema sintesi di quella che può essere fruita al cittadino, delle operazioni necessarie per garantire i servizi essenziali e il finanziamento di progetti di natura regionale o comunitaria. Noi stiamo comunque procedendo su quella che era la linea tracciata dall'ultimo bilancio di previsione del rendiconto di gestione quindi stiamo cercando di valutare attentamente, con un monitoraggio continuo, se le previsioni di bilancio corrispondono al reale andamento dell'amministrazione. Da ultimo, nella settimana che verrà, faremo un'ulteriore valutazione di questo monitoraggio per valutare eventuali scelte successive da prendere prima della fine dell'anno in corso. Il parlamentino cittadino, inoltre, ha dato il via libera con il voto contrario dei soli tre consiglieri di opposizioni presenti in aula, la Petrone Dell'Ie Senatore, al riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio per un totale complessivo di 1.897.000 euro. Si tratta di, in particolare per quello che riguarda il settore anche di mia competenza, cioè il contenzioso, di debiti derivanti da atti giudiziari che sono risalenti per la verità, cioè risalenti nel senso che riguardano procedure giudiziarie che sono partite molte anni fa, purtroppo, ahimè, e che soltanto recentemente però hanno, diciamo, poi avuto una loro, diciamo, accelerazione. Quindi si tratta di un atto dovuto, vincolato, nessuna discrezionalità quindi da parte dell'ente e quindi a contrario devo dire che se non avessimo proceduto all'approvazione, al riconoscimento di questi debiti fuori bilancio, si sarebbe configurata una grave responsabilità per i consiglieri comunali, perché si sarebbe configurato un inadempimento legislativo. Quindi diciamo che anche per la stessa credibilità dell'ente abbiamo dovuto necessariamente procedere al riconoscimento di questi debiti fuori bilancio, ripeto, derivanti da atti giudiziari che sono relativi però ad attività giudiziarie che sono partite molti anni fa, quindi non ascrivibile all'attuale amministrazione in carica. E sull'argomento è intervenuto anche il responsabile del Dipartimento per gli indirizzi politici e finanziari della Fratellanza, Massimo Bucchicchio. Questi debiti fuori bilancio non sono altro che la rappresentazione del cattivo funzionamento dell'ente emersa nelle fasi di perfezionamento del procedimento di spesa. Il fenomeno dei debiti fuori bilancio, continua Bucchicchio, costituisce una delle disfunzioni più diffuse degli enti locali che appaiono quale primaria causa di gravosi scompensi finanziari da risanare. Il Consiglio Comunale inoltre ha dato l'ok alla dismissione della partecipazione del Comune di Cava dei Tirreni alla Società Sviluppo Costa da Malfi, già in liquidazione e che comportava soltanto una spesa per lente. Ha approvato anche l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.